Tre ritratti di Samuele Arcangeli per tre grandi creatori di videosopi. Pagislov, Brahezza, Niamone. Anche questi in legno, come anche dalla stessa tavola di legno divisa in quattro tavoli, dalla stessa radice, dalla stessa matrice, con i nodi a rappresentare simbolicamente il ciclo del personale cultivo, i nodi focati del personale apporto creativo alla nuova arte. Quadro di un'esposizione e trio per musica, 8.